Anna Valle, sorelle, tu sei la protagonista, Chiara, chi sei? La sorella quella un po' più seria, quella che ha preso più fregature nella vita? Chiara sì, è la sorella, diciamo, chiamiamola più seria perché avendo preso una grossa fregatura decide di diventare estremamente razionale e di puntare tutto sulla carriera. Però la scomparsa, l'ennesima scomparsa in realtà di Elena la riporta a Matera e la riporta a fare i conti con un passato che lei ha voluto mettere da parte ma che come sappiamo nella vita insomma le cose poi alla fine i conti ce li devi fare e i cerchi li devi chiudere. Quindi questo succede a Chiara. Ritorna lì, ritrova tutta una situazione ovviamente per lei fuori di testa, insomma Elena che lascia questi ragazzini da soli, la mamma che è una nonna molto particolare. La Goggi. Esatto Loretta, molto particolare perché insomma non è lo stereotipo della nonna sicuramente, questi bambini che le sono ostili soprattutto i due gemelli più grandi di 13-14 anni che vedono Chiara come la sorella che ha abbandonato la loro mamma, insomma che non ha voluto più avere rapporti con loro. Per fortuna c'è Giulio il più piccolo che ha 8 anni e che adora questa zia nonostante non la veda mai e per fortuna c'è anche Silvia che è il commissario di polizia che è la migliore amica di Chiara o almeno lo era fino a quando Chiara non è scappata da Matera ma ora che Chiara ritorna anche se loro non si sono mai completamente lasciate ritrova questo appoggio, questo piccolo nido in Silvia. E la aiuterà e la supporterà, la guiderà nella ricerca della verità. Senti è una donna Chiara però che non ti somiglia perché tu sei molto più solare e poi hai dei figli. Beh io certo so che cosa significa avere una famiglia mentre Chiara fino a un certo punto non lo sa, io non lascio il sentimento fuori dalla porta come ha fatto Chiara ma io in realtà non sono neanche mai stata tradita da una sorella che ho e che mi adoro e che adoro. Quindi non ho quel passato doloroso che ha dovuto attraversare sicuramente Chiara. In altre cose magari mi somiglia nel fatto di essere ordinata, di volere le cose in un determinato modo soprattutto quando si tratta di cose professionali. Nella vita quotidiana e personale sono molto più, non so, non volevo usare la parola easy però in realtà non trovo una traduzione adatta. Insomma molto più, lasci un po' più andare. Esatto sì sì, quindi in questo non mi assomiglia però in altre cose appunto nel volere alcune cose in un determinato modo e nella passione che Chiara ha per le sue cose, anche io insomma la passione che io ho per le mie cose lavorative e non è molto forte. Quindi in questo sicuramente ci somigliamo. Anna, dopo Sorelle ti rivediamo in Questo Nostro Amore, 80? Sì, stiamo terminando la lavorazione di Questo Nostro Amore, 80, quindi ci vedrete negli anni 80, Neri e Emanuela Ventura. Non sono stati poi così male, dai, alla fine? No, no, infatti poi noi li affrontiamo, è ambientata nel 1981, siamo agli inizi degli anni 80 e la storia, anche questa sarà una storia vincente, succederanno un po' di cose tra Anna e Vittorio e anche tra Bernardo e Benedetta e ci sarà una bellissima evoluzione del personaggio di Teresa Strano e anche di Salvatore. Insomma, tutti i ragazzini li vediamo dieci anni dopo, quindi sono più grandi, quindi con le loro personali storie e anche questa, insomma, speriamo che sarà una cosa bella da seguire. Sicuramente, grazie Anna. Grazie a te.